Sia Sinistra e Colleggio Libertà e Involuzione Comunista hanno aderito all'altra Europa di Tsipras e credevamo anche noi doveroso e importante portare i nostri contributi ai nostri elettori. Perché questo? Perché l'Iperamento Comune aderisce all'altra Europa di Tsipras? Proprio dall'esperienza che l'Iperamento Comune vive in questo Consiglio Comunale, quelle nelle realtà locali in cui dopo la sfida si fa la politica vicina ai cittadini. Io sono stato 15 anni Consigliere Comunale, 15 anni dal 1995 al 2009 e lentamente ma progressivamente nel tempo ho sempre visto una perdita di potere decisionale da parte dei Consigli Comunali, da parte di un sindaco, da parte dell'amministrazione su quelle che erano le scelte politiche e importanti territoriali che l'amministrazione comunale aveva fatto.